Da consigliere comunale, eletto in virtù di 4200 voti di preferenza, ringrazio appunto i Tarantini per questo grande tributo di stima e di affetto nei miei confronti, devo segnalare ciò che non funziona in città e quindi battermi per risolvere questi problemi proprio in sede istituzionale, in sede di consiglio comunale. Mi trovo al quartiere Tamburi, precisamente in via Torquato Tasso e qui c'è stata segnalata una situazione incredibile, una schiera di cassonetti, vedete, per la raccolta differenziata, che sono stati allocati tutti qui in serie, almeno fossero stati distribuiti, dislocati tra i vari marciapiedi, invece no, tutti qui a schiera, un odore, una puzza incredibile e immaginate, proprio la gente che abita in questo palazzo, gli odori che deve appunto subire. Proprio una signora che abita in uno di questi piani mi ha sottolineato la problematica, dice io devo vivere praticamente con la finestra blindata, non posso neanche affacciarmi perché appena mi affaccio mi arriva nelle narici tutto questo odore. Allora io mi rivolgo a Chima Ambiente Amiu, al presidente Mancarelli per una diversa distribuzione dei cassonetti, insomma dovrebbe esistere una logica di sparpagliarli appunto per la zona, non tutti qui, come dire, assiepati, uniti gli uni agli altri. E' una cosa incredibile, si prendono dei provvedimenti, si fanno delle scelte proprio insensate come questa e basta signori. Già il quartiere Tamburi patisce le pene dell'inferno con la questione ambientale, ma vogliamo veramente far impazzire ancora di più la povera gente che deve soffocare e dei fumi dell'Ilva e degli odori tutt'altro che gradevoli provenienti da questi cassonetti.